Te previ una persona che potevi presentare a chiunque in quanto in ogni contesto sapeva come inserirsi poi adesso ti dico è da anni, ho visto che adesso sta un po' sfasando perché forse però da tanto tempo quando ci ho fatto qualche video assieme ti posso garantire che lui potevi presentarlo a questo tipo di persona e sapeva in ogni contesto comportarsi benissimo ok